Buongiorno a tutti, porto innanzitutto i saluti del direttore centrale Sterrotoli, siamo l'evento intermedio di presentazione del progetto Arles, progetto presentato e approvato dall'Inel a seguito dell'avviso pubblico emanato a fine 2015 tramite il quale l'istituto ha messo a disposizione principalmente delle parti sociali 3 milioni di euro per lo sviluppo della cultura di prevenzione, rivolto in particolare ai rappresentanti e ai lavoratori della sicurezza dei tre settori nevralgici, cioè edilizia, agricoltura e aziende sanitarie ospedaliere. Questa slide vorrebbe rappresentare in maniera plastica il complesso delle attività svolte dall'Inel in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, competenze che ne sono state ovviamente rafforzate e ampliate non tanto e non solo a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 81 del 2008, ormai il nostro testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche e soprattutto a seguito dell'acquisizione e dell'incorporazione di quelle che erano le competenze precedentemente attribuite all'ISPESL in materia di ricerca e prevenzione. Quindi parliamo essenzialmente di attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle aziende completate da forme che esamineremo più avanti di incentivazione economico-finanziaria nei confronti delle aziende che intendono migliorare, elevare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ruolo è poi definito da questi due atti amministrativi relativamente recenti, una parte il piano nazionale di prevenzione predisposto dal Ministero della Salute e approvato in sede di conferenza Stato-Regione a fine 2014 relativo al quinquennio 2014-2018, già prorogato a tutto il 2019 e in funzione, come dire, sussidiaria di supporto all'attività del piano nazionale di prevenzione, il conseguente accordo quadro di collaborazione stipulato a fine 2015 tra Ministero della Salute, INAL e Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Quali sono gli obiettivi specifici, gli obiettivi prioritari fissati dal piano nazionale di prevenzione 2014-2018. La riduzione innanzitutto degli infortuni in edilizia e agricoltura, che sono due tra i settori nei quali si continua a registrare il maggior numero di incidenti, soprattutto gravi e mortali, rapportati al numero degli addetti. Per la verità questo triste primato lo detiene, continua a detenere il settore dell'agricoltura, seguito dal settore metallurgico e successivamente dal settore delle costruzioni. La riduzione poi degli infortuni su strada. Tenete conto che nel 2017, se sommiamo gli infortuni mortali avvenuti in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro e viceversa, con gli infortuni mortali avvenuti su strada in occasione di lavoro, vediamo che quasi il 45% degli eventi con esito mortale avvenuti nel nostro Paese, degli eventi mortali sul lavoro, sono in realtà avvenuti, sono accaduti sulla strada. Il post luogo di lavoro più pericoloso nel nostro Paese in realtà non è il cantiere, non è l'officina, non è lo stabilimento, ma ai noi è e continua a essere la strada. Poi gli infortuni in ambiente sanitario e ospedaliero, che è uno dei pochi settori che negli ultimi dieci anni ha visto un trend in realtà in costante ascesa e non diminuzione del numero di infortuni, in particolare delle lavoratrici, delle donne, delle lavoratrici donne e poi le malattie professionali. Teniamo conto che il numero di malattie professionali denunciate a linea nel corso degli ultimi dieci anni, diciamo dall'approvazione del decreto 81 in poi è sostanzialmente triplicato. Riteniamo che questo incremento esponenziale non sia dovuto ad un improvviso peggioramento delle condizioni di lavoro nelle nostre aziende, quanto ad una maggiore, migliore consapevolezza del fenomeno dovuta anche ai più incisivi obblighi di denuncia, di segnalazione posti dal decreto 81 nei confronti dei vari attori di prevenzione, a cominciare dai medici competenti, aziendali e anche nei confronti dei medici di famiglia. All'interno del piano nazionale di Lizia, premessi questi che sono i 5 obiettivi fondamentali a corredo e a supporto delle attività del piano, sono previsti 5 piani nazionali tematici che sono sostanzialmente realizzati, portati avanti con un'attività concertata tra sistema delle regioni ed inali. Quali sono i 5 piani nazionali tematici? Agricoltura, edilizia, gli altri 3, vedete PNP 2014-2018, sono relativi appunto al fenomeno in costante ascesa delle malattie professionali. Parliamo delle patologie dell'apparato muscolo scheletrico che rappresentano circa il 60% delle denunce di malattie professionali presentate all'INAL annualmente. Il piano per la prevenzione dei cancerogeni occupazionali e dei tumori professionali e il piano nazionale per la prevenzione del rischio stress e lavoro correlato e per la promozione del benessere organizzativo. In questa sede ovviamente interessa in modo particolare quella che è la declinazione dell'attività prevista nell'ambito del piano nazionale edilizia, di concerto appunto col sistema delle regioni e delle province autonome, abbiamo programmato nel bienno 2018-2019 tre attività principali da realizzare. La creazione e diffusione di un archivio di buone pratiche per la sicurezza in edilizia, funzionale alla creazione e diffusione di questo archivio, la organizzazione, il lancio del bando è ormai imminente, l'organizzazione di un concorso nazionale per la creazione e la presentazione di proposte di buone pratiche, di buone soluzioni per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporani e mobili. E infine la realizzazione di una vera e propria campagna di comunicazione che vedrà organizzate diciamo grossomodo nel primo semestre del 2019 quattro giornate nazionali per la sicurezza realizzate appunto per macro aree interregionali, nord, centro, sud e isole. Parliamo in particolare della principale attività che abbiamo previsto di concerto con le regioni, cioè questo concorso, questo bando, questo concorso nazionale. Tutti gli elaborati riconosciuti di particolare interesse verranno appunto pubblicati sia sul portale INE che su quello delle regioni per creare appunto un archivio nazionale facilmente accessibile e consultabile. Cosa prevedrà questo bando? Ormai stiamo ultimando la predisposizione dell'elaborato e prevediamo di pubblicarlo tra dicembre e gennaio prossimi. Prevedrà appunto la suddivisione delle domande in tre categorie che sono relative all'identificazione dei soggetti proponenti, quindi prevediamo un asse dedicato ai singoli professionisti, agli ingegneri e responsabili della sicurezza, un secondo asse dedicato alle imprese e un terzo asse dedicato agli enti e alle istituzioni pubbliche e agli organismi paritetici quindi e ovviamente anche alle associazioni di categorie. Quindi siamo in casa Ance, il progetto che oggi in qualche modo illustriamo è presentato da un organismo pariterico, invitiamo entrambi i soggetti a prestare particolare attenzione a questo bando di prossima di imminente pubblicazione. Nell'ambito delle attività dell'istituto particolare rilievo hanno gli accordi di collaborazione stipulati con associazioni di categoria e con gli organismi paritetici, ricordo in questa sede il protocollo di intesa tra istituto e commissione nazionale di CPT rinnovato il 21 novembre 2016 di durata triennale al quale vorremmo contribuire a dare nuova linfa rivitalizzando le relative attività che vedete qui sinteticamente illustrate. Particolare rilievo poi per appunto lo sviluppo e la promozione della cultura della salute e sicurezza nell'olio di lavoro ha avuto, lo accennavo in premessa, l'avviso pubblico nazionale pubblicato appunto a fine 2015, dicevo riferito in particolare ai tre settori, agricoltura, edilizia, aziende sanitarie e ospedaliere, non a caso individuate in base agli obiettivi prioritari stabiliti, individuate il piano nazionale di prevenzione. A seguito di questo avviso pubblico sono state presentate 44 proposte progettuali, di queste 14 sono state ritenute meritevoli di cofinanziamento da parte dell'INA, ripeto hanno stati messi a disposizione 3 milioni di euro, di questi di fatto impegnati 2 milioni e mezzo, tanto diciamo cubano complessivamente per la parte di competenza INEL questi 14 progetti ritenuti ammissibili, uno solo di questi progetti, tra l'altro il primo nella speciale graduatoria stilata dalla commissione di valutazione, il primo è unico relativo al settore dell'edilizia, è proprio quello che è stato presentato e che oggi illustriamo in associazione temporanea e di scopo tra Formedil e CNCPT. Questo progetto ARLESS ha l'obiettivo appunto di promuovere e sviluppare la cultura della prevenzione tra gli RLS e i rappresentanti territoriali nel settore ovviamente delle costruzioni attraverso un'azione di sistema della bilateralità di settore con particolare focus allo scambio di informazioni tra rappresentanti, mettendo in condivisione esperienze di cantiere, esperienze di territorio, esperienze di ruolo contenuti poi verranno ovviamente meglio e più diffusamente illustrati negli interventi successivi. Concludo l'intervento con un accenno all'attività di finanziamento delle imprese ormai strutturate attraverso bandi annuali pubblicati dall'Ine, tenete conto che dal 2010 ad oggi sono stati stanziati dall'Ine per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro con un impegno finanziario via via maggiore questo è passato ai 60 milioni del primo bando emanato in via sperimentale nel 2010 a 249 milioni dell'ultimo bando pubblicato a dicembre 2017 ed è imminente la pubblicazione del bando ISI 2018. Stiamo aggiustando, limando gli ultimi aspetti e contiamo di pubblicarlo a metà dicembre. Si tratta appunto di iniziative ripeto ormai strutturali di sostegno, sono stati ammessi finanziati dall'avvio della sperimentazione dei bandi ISI oltre 20 mila progetti di prevenzione con un progressivo allargamento della platea dei destinatari attraverso la previsione di assi specifici di finanziamento. Abbiamo previsto a seguito dell'RGBilancio del 2016 anche un asse ulteriore destinato esclusivamente al settore dell'agricoltura e abbiamo per la prima volta col bando ISI 2017 allargato la platea dei destinatari anche agli enti e gli organismi cosiddetti del terzo settore superando quindi il vincolo delle imprese, delle aziende iscritte alla Camera di Commercio. Vedete qui sintetizzato quello che è l'epilogo negli ultimi anni dei finanziamenti erogati al settore delle costruzioni. Vedete raffrontato anno per anno in azzurro l'importo finanziabile sulla base dei progetti ammessi e poi l'importo effettivamente liquidato a seguito delle verifiche tecnico-amministrative svolte successivamente. Vedete che nel 2013 e 2014 c'è stato un sostanziale non completo allineamento molto distante l'importo liquidato dall'importo finanziabile nel 2016 ma qui parliamo di progetti di prevenzione il cui finanziamento risultava qualche settimana fa ancora in fase istruttoria. Di particolare interesse è anche questa altra tabella che raffronta i progetti ammessi per tipologia di attività economica rispetto a quelli che avevano superato la cosiddetta fase del click day e vedete che come percentuale di progetti ammessi il settore delle costruzioni è secondo solo a quello delle attività manufatturiere. Questo sta a significare quella che è la particolare valenza, la particolare validità dei progetti riguardanti il settore dell'edilizia che una volta superata la fase del click day in buona percentuale hanno visto effettivamente ammesso quindi ritenuto ammissibile, validabile da parte degli organi tecnici dell'INEL il progetto di finanziamento così presentato. Bene, questa è una panoramica sintetica non del tutto esaustiva di quelle che sono le attività prevenzionali svolte dall'istituto rispetto alle quali particolare valore e lo voglio sottolineare al progetto che presentiamo nuovamente oggi come fase di avanzamento a metà del percorso e voglio rammentare e sottolineare la valenza, la validità di questo progetto non tanto e non solo perché è arrivato, è stato valutato come primo nella speciale graduatoria stilata dalla commissione di valutazione ma proprio perché crediamo fortemente nella sinergia tra istituto e parti sociali e organismi pariterici come chiave di volta per in qualche modo incrementare, migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro a cominciare dal settore dell'edilizia, a cominciare dal settore delle costruzioni.